Insieme a Kendall e Mattia abbiamo organizzato questa raccolta fondi da destinare all'ospedale Gaslini, aprendo un GoFoundMe, dal nome Eva, che è il nome della bambina, per i piccoli cuori. Loro hanno avuto una bambina nata nell'ospedale Gaslini qualche mese fa, con un problema al cuoricino e l'equipe Gaslini è intervenuta prontamente, salvando di fatto la situazione. Una cosa che mi ha colpito molto è trovare due fotomodelli di fama internazionale in un piccolo paese dentro terra Ligure, come quello di Pieve di Teco. Parlando di moda e guardando i loro lookbook è venuto automatico creare un progetto ad hoc. Allora abbiamo deciso di unire le nostre esperienze, finalizzate proprio al recupero di fondi, per Eva e i suoi piccoli cuori. Grazie a tutti! Grazie a tutti.